guardiamo un giro e non può lo facciamo dopo gemme buono buono rosa si e vai perfetto eccola qua ci facciamo una partita dopo e rosa finalmente finalmente l'abbiamo portata a casa perché non l'ho c'è alcuni vedai tutte le casse enormi ultime dai c'è un biglietto biglietti in anna marea più monete forse ancora due biglietti guarda quante volete mi danno il potenzialmente per rosa eccola qua aspetta di fatto mi è contento però speravo qualcosina in più andavo a 98 90 piccole più oltre grandi biglietti in anna ma è un biglietto purtroppo però quasi quasi aspetto quelle nuove ok partiamo con la terza rosa norme 8 gemmi buone rosa miglioramenta niente 3 gemmi ok ne manca una speriamo niente 5 gemmi va bene e sappiamo qualche skin mamma se prima miglioriamo tutto grazie